Sono l'avvocato Pietro Bassotti del Codacons e sono qui per parlarvi dell'azione che sta intraprendendo il Codacons per consentire a tutti i cittadini di Genova di costituirsi con il Codacons parte offesa nel procedimento penale innanzi alla Procura di Genova a seguito delle gravi conseguenze dell'alluvione che ha danneggiato non soltanto Genova ma i cittadini genovesi. È per questo che il Codacons ha presentato un esposto al fine di chiedere alla Procura di accertare effettivamente cosa sia accaduto dopo l'alluvione, come mai è stata gestita in questo modo l'emergenza maltempo nonostante le previsioni del tempo stesse, come mai non sia stato dato l'allarme e soprattutto non sia stata interrotta la circolazione ferroviaria ma soprattutto ipotesi delittose quali disastro colposo, omicidio colposo in conseguenza della morte di un cittadino di Genova di 57 anni, illeciti nel piano edilizio e ambientale o danni al territorio in conseguenza della gestione amministrativa ma anche omissioni in atti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione di tutti quei soggetti pubblici o privati addetti ad attività di controllo e di sorveglianza. Possono partecipare all'azione tutti i cittadini di Genova. Il nostro obiettivo è quello di ottenere dopo la costituzione di parte offesa la costituzione di parte civile nei confronti di coloro che risulteranno penalmente responsabili e quindi agire per la richiesta di risarcimento dei danni. Per aderire è sufficiente andare sul sito del Codacons alla pagina www.codacons.it dopodiché cliccare sull'apposita sezione azioni collettive e sull'azione di riferimento all'Uvione Genova. All'interno troverete tutte le indicazioni da seguire per poter aderire all'azione. Mi raccomando, stiamo parlando dei vostri diritti. Fateli valere!